Buongiorno ragazzi! In questo video parliamo di punti di non derivabilità. Per farlo ricordiamoci la definizione di derivata. In particolare, data una funzione f definita su un intervallo aperto a b a valori in r e un punto x con 0 appartenente a questo intervallo, diciamo che la funzione è derivabile in x con 0 se esiste finito il limite del rapporto incrementale, cioè se esiste il limite per x che tende a x con 0 vedete dell'incremento di f, f di x meno f di x con 0 fratto l'incremento sulle x, x meno x con 0. Quando questo limite esiste ed è finito lo indichiamo con f' di x con 0, cioè il simbolo di derivata nel punto. La derivata in generale ci dice qual è la pendenza della retta tangente al grafico nel punto x con 0 f di x con 0. Diciamo che una funzione non è derivabile nel punto x con 0 se non esiste finito il limite del rapporto incrementale. Alcuni casi sono particolarmente importanti e sono questi. Il punto angoloso, il punto di cuspide, oppure il punto a tangente verticale. cerchiamo di esaminarli nel dettaglio. Per parlare di punto angoloso dobbiamo ritrovarci nel caso in cui non esista il limite del rapporto incrementale e in particolare dobbiamo avere che il limite destro del rapporto incrementale ci dia un risultato di 1, il limite sinistro del rapporto incrementale ci dia un risultato di 2 e questi due valori sono diversi tra loro e sono numeri reali. Quindi abbiamo un limite destro finito diverso da un limite sinistro finito. In generale abbiamo, vedete, due semirette tangenti al grafico della funzione nel punto di non derivabilità e questo punto si chiama angoloso perché tra le due semirette tangenti sta un angolo di misura non nulla. C'è però un secondo caso in cui il punto di non derivabilità viene ancora classificato come punto angoloso e in particolare quando il limite destro oppure il limite sinistro del rapporto incrementale è infinito, mentre viceversa di 1 o di 2 sono sempre dei numeri reali. Ci ritroviamo quindi, vedete, sempre nel caso di due semirette tangenti in cui una semiretta è verticale. Si tratta ancora di un punto angoloso perché vedete tra le due semirette sta un angolo di misura non nulla. L'esempio classico di punto angoloso è quello che ritroviamo nella funzione valore assoluto di x nel punto x con 0 uguale a 0. È facile osservare che la funzione è continua in 0. Infatti il limite per x che tende a 0 del valore assoluto di x è uguale a 0, cioè il valore della funzione nel punto. La funzione però non è derivabile in x con 0 uguale a 0. Infatti vedete il limite destro del rapporto incrementale diventa il limite per x che va a 0 più del valore assoluto di x fratto x. Visto che stiamo svolgendo il limite a 0 più ci ritroviamo in questa zona di x positive e quindi dobbiamo andare a svolgere semplicemente il limite di x fratto x che chiaramente fa 1. Similmente se andiamo a svolgere il limite sinistro del rapporto incrementale ritroviamo il limite per x che tende a 0 meno del valore assoluto di x fratto x. Questa volta stiamo svolgendo il limite considerando x negative e quindi il limite diventerà di meno x fratto x, ricordando la definizione di valore assoluto, e avremo come risultato meno 1. Vediamo quindi che questi due limiti destro e sinistro sono diversi e lo 0 è proprio un punto di non derivabilità, un punto angoloso. Passiamo alla seconda tipologia, quella della cuspide. In questo caso non esiste il limite del rapporto incrementale, ma avremo che il limite destro del rapporto incrementale tende a più infinito e il limite sinistro a meno infinito. In questo modo ritroviamo una semiretta tangente verticale, o se volete due semirette coincidenti. Tra loro non c'è un angolo di misura non nulla e quindi parliamo di cuspide. Chiaramente il caso di cuspide si ha anche quando il limite destro del rapporto incrementale tende a meno infinito e il limite sinistro tende a più infinito. Quindi l'importante è trovare segni opposti nello svolgimento del limite del rapporto incrementale da destra o da sinistra. L'esempio tipico è quello della radice del valore assoluto di x, sempre nel punto x con 0 uguale a 0. La funzione è chiaramente continua, perché nel momento in cui svolgo il limite per x che tende a 0 di f di x trovo 0, cioè il valore della funzione nel punto. La funzione non è derivabile. Infatti, svolgendo il limite destro del rapporto incrementale, ritrovo il limite per x che tende a 0 più della radice del valore assoluto di x fratto x. Questo tende a più infinito. Viceversa, quando vado a svolgere il limite a 0 meno, sempre del rapporto incrementale, ritrovo il limite per x che tende a 0 meno della radice del modulo di x fratto x. Il risultato è meno infinito, perché osservate che al denominatore stiamo trovando dei valori negativi. Ovviamente ritroviamo questa semiretta tangente verticale nello 0. Concludiamo con i punti a tangente verticale. In questo caso il limite del rapporto incrementale esiste, però è infinito, cioè il limite per x che tende a x con 0 più del rapporto incrementale è uguale al limite per x che tende a x con 0 meno del rapporto incrementale e questo risultato è più infinito oppure meno infinito. Dal punto di vista geometrico ci ritroviamo di fronte al caso di un flesso verticale, come vedete bene da questo esempio grafico. Ritroviamo inoltre nel punto una retta tangente verticale. L'esempio classico è f di x uguale alla radice terza di x, sempre in x con 0 uguale a 0. La funzione è continua nel punto perché il limite a 0 della radice terza di x è uguale a 0. Vediamo che f però non è derivabile nello 0 perché se andiamo a svolgere il limite del rapporto incrementale troviamo il limite per x che tende a 0 della radice terza di x fratto x e questo limite è uguale a più infinito. Ci ritroviamo quindi proprio in questo caso che abbiamo appena descritto. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia aiutato a comprendere la classificazione dei punti di non derivabilità. Continuate a seguire i video di questo canale e iscrivetevi se non lo avete ancora fatto. A presto!